La stasera la compagnia Antidoto in scena con S. Capitassatia, commedia in due atti di Nino Di Maria. Di che cosa parla? Insomma, il tema è reale, cose che succedevano e succedono. Si parla di tradimenti. Il tradimento è uguale a Corna e perciò alla commedia, come di solito, il nostro curriculum teatrale ci porta ad essere l'antidoto con una commedia divertentissima di Nino Di Maria. S. Capitassatia è la storia di un sindaco che è una persona che cerca di inculcare al fratello quello che se succedesse è un fatto di Corna, si dovrebbe andare per via legale, il divorzio. S. Capitassatia, il resto della commedia lo dovranno vedere le persone al 31, l'1 alle 21 e 30 e poi c'è anche il domenicale alle 18. Questo lo dobbiamo ricordare perché c'è tanta gente che magari la sera col freddo non può uscire e noi gli diamo la possibilità, domenica giorno 4, di essere qui a teatro con noi e se capitassatia. Quindi una commedia su cui riflettere ma anche su cui ridere parecchio? S. Capitassatia, innanzitutto su cui riflettere perché poi tutte le commedie raccontano la vita, lo sappiamo e poi del resto la gente, lo ripeto sempre, in ogni situazione, in ogni intervista la gente si vuole rilassare almeno un'oretta e mezza per dimenticare i problemi che a tutti a volte ci affliggono. S. Capitassatia, comunque noi i problemi li possiamo togliere, per un'ora e mezza possiamo fare e dimenticare. Poi la commedia è divertente, tu vieni, Antonio Burgio verrà pure, è giusto? S. Capitassatia, questa è la locantina, la gente penso che lo sa e poi i biglietti ci sono, sempre, perché la gente dice esaurite, le esaurite ne hanno sempre. S. Capitassatia, ricordiamo gli appuntamenti e rivolgiamo un invito ai telespettatori. S. Capitassatia, allora intanto il botteghino è già aperto, diciamo dalle 17 in poi è già aperto, il 31 che sarebbe oggi, domani alle 21.30 e poi domenica 4 alle ore 18, per tutti i biglietti ci sono, lo ripetiamo sempre perché poi con l'antidoto è sempre chino, no comunque i biglietti ci sono e poi sì ci sono, perciò venite a divertirvi, vi dico a divertirvi e se capitassatia. Grazie. Grazie.